Intervistato da Silvia Puffanina Verissima, Francesco Chiofalo torna a parlare della sua malattia e delle polemiche che hanno investito la sua ex selvaggia Roma, accusata di aver mostrato scarsa sensibilità perché aveva lasciato intendere che la situazione sanitaria del ragazzo non fosse così grave come lui attorno Nelle scorse settimane, la ragazza aveva detto al settimanale Spai di aver subito mai trattamenti da parte di Chiofalo e dentro le loro relazioni, Chiofalo però vuole evitare altre problemi Con questa esperienza ho sofferto da morire ma non ho voglia di parlare male di una persona che ho amato così tanto, per il resto io sono a posto con la stessa Le ho dedicato sette anni per la mia vita, la conosco bene e so che quelle cose non le pensano Anzi, sono sicuro che le sarà sceso una primunce donna, punto il ragazzo, sollecitato da Silvia Puffanina Continua a difendere la ex ma amiche di non sapere perché si sia comportata in questo modo, me lo sono chiesto ma non l'ho capita Un po' mi distrutto. Probabilmente avrà fatto dei ragionamenti suoi per cui ha ritenuto di dover dare valutazioni che nessuno le ha chiesto, forse è stata mai consentita Chiofalo respinge poi le accuse di maltrattamenti, punto i due non si vedono e non si sentono da diverso tempo Viviamo a un'ora e mezza di distanza, Roma è una città grandissima, frequentiamo persone diverse e non abbiamo amici in cui, non era obbligata a chiamarmi o a fare un amico Ma non mi sento di attaccare una persona che ho amato così tanto perché sono sicuro che lei quelle cose non le pensa, la fermo e le auguro di stare bene e di avere quello che desidera Ha molte qualità, certo, con me dopo questa